suoniamo la casa ho capito sfogato il pezzo di legno di apodio oggi mi avrà colpito quella persona una leva per aprire una finestra ok oddio è complicato e dove vado? e dove vado? e adesso? poi adesso vado tutti dietro per dietro eh io entro qua posso scendere qui posso risalire lì vado lì non posso andare dall'altra parte però ah c'è una porta qui bella vista aia non capitare corri aia 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 3 8 questo è 3 8 siamo sicuri questo è 1 4 2 6 1 4 3 8 2 6 1 4 3 8 ultimo po' dei commenti 2 6 1 4 3 8 2 6 1 4 3 8 2 6 1 1 non è così 2 6 1 ah non so cosa è un 3 8 1 4 2 6 i numeri sono quelli forse è un 2 9 ma non c'è il 9 in quella ruota forse al contrario 3 8 1 4 2 6 no forse è 6 1 cioè questo 6 2 scusate 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 io uso 1 1 proviamo 1 1 6 1 4 1 1 1 8 proviamo però del mito e non posso rifare lo stesso numero perchè è bollato Anna non lo so noi ci vediamo al prossimo video perchè questo veramente lo so fare